Carissimi tutti, nel nostro cuore in questo momento sono soprattutto gli ammalati, in modo del tutto speciale i familiari che ci hanno dato un preziosissimo insegnamento di vita, tutti gli operatori sanitari di questo grande centro di ricerca, di cura, di cultura, di solidarietà, di amore. Abbiamo voluto portare qui la croce con il sacro chiodo, perché il sacro chiodo ha una forza imponente, fisica, tocca il corpo e attraversandolo giunge al cuore che sinteticamente tiene dentro tutta la complessità di cui abbiamo inteso la mente, il cervello, lo spirito. In un certo senso piantiamo il chiodo e la croce dentro questo luogo di dolore, di sofferenza e di prova. Perché? Perché, come ci ha detto la parola di Dio, possiamo sopportare la sofferenza perché anche Cristo ha patito per noi ed ha patito per la gloria e quindi ha piantato la parola speranza, l'esperienza della speranza dentro la carne mortale e sofferente, mortale per la malattia, per il dolore, per la disgrazia, per il male fisico e mortale anche per il male morale, per la perdita del senso del bene, del bello, del vero che spesse volte ci caratterizza per i nostri peccati. Quindi questa speranza è anche una rinascita per noi. Non perdetevi d'animo. Ecco, questo dice San Carlo con un realismo potente e con un'immagine così efficace. Anche quando Cristo sembra tacere, grida il suo chiodo preziosissimo. E tutti noi l'abbiamo percepito ascoltando oggi e ci dice io sono quella penna che con il sangue vi ho disegnato sulle mani del Signore. Nessuno dica che il Signore si è dimenticato di noi in piena peste. Noi siamo stati profondamente incisi nelle sue piaghe, nel suo petto, nel suo costato. E il chiodo santo ci ha disegnati con caratteri indelebili. I nostri nomi lui li vede sempre scritti e li rammenta al Padre. Tutti noi dal concepimento fino al termine naturale della nostra vita siamo dentro questo disegno sempre ultimamente buono del Padre. E il dolore e la croce, come per Gesù, sono come la grande condizione di passaggio e di verifica della nostra verità per la gloria. Vogliamo dire attraverso questo luogo a tutti i sofferenti nel corpo e nella mente delle nostre terre ambrosiane questa intima vicinanza del crocifisso glorioso.